In America, ritorniamo da sui discorsi, quanti di voi sanno della massoneria? Vabbè, ora non facciamo tutto nel buon fascio, diciamo di quanti di voi sanno del nuovo ordine mondiale? Poi, eh, il resto guarda un po' lì e ti dice paparino. Beh, illuminati? Qualcuno sa qualcosa? Lo sapevi gli stessi, guardate chi guarda. Ok, va bene. Fatti sdrammatizzare un po' lì, no? Sdrammatizzare. Bene. Quelli che non hanno alzato le mani, vedi che guardate i giorni. Io non ne ho alzato le mani. Grazie a tutti